Mentre cresce l'attesa dei fan per la prima parte del terzo capitolo della saga Hunger Games, in Italia è stato mandato in onda in chiaro per la prima volta il primo episodio, datato 2012 e diretto da Gary Ross. Perché non approfittare dunque di questa occasione per elencare un po' di curiosità sul primo successo assoluto della saga? Ad iniziare ad esempio dagli attori che per poco non hanno ottenuto i ruoli dei tre protagonisti, Katniss, Pete e Gale, toccati poi a Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth. Jennifer Lawrence ha avuto la meglio sulle colleghe Emma Roberts e Clomore tra le altre, rinunciando a sua volta a girare Savage pur di apparire in Hunger Games. Hutcherson ha invece sconfitto Alex Peptifer e Ivan Peters, mentre Liam Hemsworth non ha avuto molti avversari e ha facilmente rubato il ruolo a Robbie Amell e Drew Roy. Eccovi poi altre cinque curiosità sulla pellicola. Lenny Kravitz nella saga interpreta lo stilista Sin, ma non ha dovuto fare nessun provino per ottenere il ruolo. Il regista Gary Ross si è infatti innamorato dell'interpretazione del cantante Imprecious. La fia di Kravitz, Zoe, è inoltre una carissima amica della Lawrence e sembra che il cantante le abbia chiesto molti consigli per lavorare al meglio accanto all'attrice premio Oscar. Woody Harrelson è vegetariano, per cui nelle scene in cui vedete Hamish mangiare, vi assicuriamo che Harrelson mangiava solo dolce o verdure, la dura vita dell'attore. A proposito di duro lavoro, tutti e tre i protagonisti hanno dovuto cambiare il colore dei capelli per calarsi nei loro ruoli. Hemsworth e la Lawrence, entrambi biondi naturali, hanno dovuto scurirsi i capelli, mentre Hutcherson Castano ha dovuto schiarirli. Jennifer Lawrence, in particolare, per non rovinarsi la chioma, prima ha voluto provare una marea di parrucche, solo per le quali la produzione ha speso 18.000 sterline. Paula Malcolmson, l'attrice che interpreta la mamma di Katniss, ha curiosamente già vestito i panni della mamma di Jennifer Lawrence in un episodio di Cold Case, in cui hanno recitato entrambe. Infine, Donald Sutherland ha letto per caso il copione del film e ha fatto molte pressioni per ottenere la parte del presidente Snow, scrivendo una lettera al regista perché il copione gli ricordava orizzonti di gloria di Stanley Kubrick.